Un ritorno per sognare, il Monopoli si assicura per due anni, Mattia Montini, attaccante classe 92, protagonista in Bianco Verde, già nella stagione 2016-2017, con 35 presenze e 13 reti. L'inizio di una carriera che si è articolata, poi con la cessione al Bari, dove però non ha mai giocato, il prestito a Livorno in Serie C e la Prodo in Romania alla Dinamo-Bucharest. 17 gol in 47 partite, poi il passaggio alla Stragurgiu, 8 reti in 33 gare e il trasferimento in Polonia al Wizeblodz, con 12 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa e una stagione, quella scorsa, vissuta un po' ai margini. La punta, che si svincolerà dai polacchi, firmerà un contratto biennale e raggiungerà entro domenica il ritiro di Cascia. Nel frattempo continua la trattativa con il Catanzaro per Baschets, il Monopoli ha proposto Ghiebre in cambio, che però preferirebbe la Regina. L'offerta degli Emiliani non soddisfa il Monopoli, che vorrebbe girarlo in Calabria per l'argentino. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine, si preannuncia un braccio di ferro tra l'esterno del Burkina Faso e la società di Rossiello e Lopez.